Fine settimana del 25 aprile che vedrà condizioni di tempo prettamente variabile con la possibilità di piogge e rovesci in particolare nella giornata di domenica quando appunto soprattutto nelle ore del pomeriggio avremo dei fenomeni temporaleschi sparsi che saranno più probabili sui settori collinari e costieri. Poi nella giornata del 25 aprile di lunedì vedrà ancora molta variabilità con delle schiarite soprattutto nel mattino mentre poi nel pomeriggio tenderanno nuovamente a formarsi nuovi addensamenti cumuliformi con dei rovesci anche temporaleschi che dai settori appenninici tenderanno a muoversi verso la costa. Saranno comunque fenomeni intermittenti e non continuativi che lasceranno spazio comunque anche delle fasi più asciutte. Le temperature tuttavia viste le correnti dai quadranti meridionali si manterranno attorno alla media o anche di qualche grado superiore quindi diciamo che non farà freddo ma avremo un clima relativamente mite mentre i venti che soffriranno in particolare nella giornata di nella serata di sabato e nella giornata di domenica saranno abbastanza forti dai quadranti sud occidentali con rinforzi che sui settori pedemontani appenninici potranno raggiungere anche delle raffiche di 70-80 km orari. Quindi attenzione ai venti forti in particolare sulle aree collinari e appenniniche mentre lungo la costa abbiamo venti di scirocco in particolare nella giornata di sabato che appunto determineranno un mare da mosso a molto mosso.